Oggi siamo all'ufficio delle entrate di Sansevero, è un allestimento quasi da museo, siamo con Vinicio Faienza, uno dei dipendenti della sede del presidio di Sansevero, una grande occasione tra gli ospiti anche il direttore regionale, molte volte quando si parla di ufficio delle entrate se ne parla in maniera negativa ma oggi portiamo un po' d'arte e quindi di sentimento in questi ambienti E' stata allestita questa mostra perché, qual è stato il suo spunto? Ho visto anche qualche tentativo di avvicinarci a Caravaggio La maggior parte Caravaggio mi ha affascinato molto, poi i colleghi mi hanno proprio spinto a fare questa mostra perché portavo dei quadri e li appoggiavo nelle stanze dei miei colleghi Abbiamo portato l'arte anche nell'agenzia delle entrate e sono abbastanza fiero di tutto questo Per quanti giorni sarà possibile vedere la mostra e osservare il suo lavoro? L'orario è quello dell'ufficio, partirà da oggi e finirà il 30 di giugno, abbiamo prolungato proprio due mesi perché calcolando l'orario di apertura dell'ufficio che apriamo la mattina alle 8 e mezza, chiudiamo alle 12 e mezza, poi martedì e giovedì si può visionare anche di pomeriggio Oggi sicuramente è un esperimento importante, quello di aprirsi veramente alla città con un tema, quello della pittura, quello dell'arte e come dicevo prima il direttore regionale Anche un'occasione per far venire qui lo stesso, è un bel risultato mi pare, la città sta rispondendo, i dipendenti sono tutti presenti e sorridenti, c'è buona musica, mi pare vada tutto bene Sì certo, questa iniziativa è nata con l'entusiasmo di tutti i colleghi che ogni giorno hanno visto le opere di Vinicio, queste opere ogni tanto comparivano sulle nostre pareti dell'ufficio E abbiamo con tanto entusiasmo condiviso questa iniziativa che credo sia un'iniziativa a favore di tutti i cittadini, a favore di tutta l'utenza dell'amministrazione che viene qui ogni giorno, che frequenta gli uffici E che guarda l'ufficio con un'altra prospettiva, che è la prospettiva umana e sociale Credo che il territorio di Sansevero che come nostra amministrazione va da Peschici fino al Molise, quindi Chieudi, Serra Capriola sia contenta del nostro servizio e che qui indica oggi potrà trovare anche qui una mostra di pittura nel mentre chiede un'informazione o chiede un servizio